Benvenuti a Gossip è di più. Restate sintonizzati e non dimenticate di iscrivervi al canale. Buongiorno amanti del gossip. Mara Venier e il marito Nicola Carraro il matrimonio al video. Scopriamo il segreto dietro. Hai sentito l'ultima su Mara? No, non si tratta di un nuovo outfit o di un nuovo programma su canale 5, ma della vita amorosa di Mara Venier. Già, proprio lei. Dopo un matrimonio di 23 anni con il suo marito Nicola Carraro, la regina del gossip ha rivelato una crisi che ha rischiato di distruggere tutto. Nei primi anni del loro amore, Mara e Nicola erano l'epitome dell'amore puro. Ma ogni rosa ha le sue spine e la loro storia d'amore non fa eccezione. Ma prima di andare avanti, facciamo un salto nel passato. Nel lontano 2000, in una cena luccicante, il destino ha fatto si che Mara Venier e Nicola Carraro si incontrassero. La serata? Beh, ha finito a casa di Mara, ma come ha giurato lo stesso Nicola, non è successo niente. Eppure, il loro amore non ha fatto che fiorire, culminando in un matrimonio nel 2006. Tuttavia, non tutto è stato rose e fiori. Le voci dietro le quinte mormoravano. Gli amici di Nicola erano scettici. Non era all'altezza, sussurravano. Alcuni persino snobbavano la nostra Mara, negando le inviti a cene mondane. Tutto ciò ha spinto Mara Veniera a fronteggiare la madre di Nicola in un confronto faccia a faccia, solo per rivelare il profondo amore che provava per suo figlio. Il matrimonio tra Mara e Nicola Carraro ha resistito alle tempeste, dai pettegolezzi alle gelosie inesistenti. Mai avuto motivo di essere geloso, ha affermato Nicola, che ha persino stretto amicizia con ex fidanzati di Mara. Ma la vera bomba arriva ora. Mara Veniera confessato. Durante una vacanza in Sardegna, il matrimonio ha rischiato di collassare. Litigi continui, tensioni inarrestabili. Pensavo fosse la fine, ha detto Mara. Ma un incidente ha riacceso la loro passione. Un amico ha chiamato Mara dicendole che Nicola stava male. Senza pensarci due volte, Mara è corsa da lui e tutto è stato dimenticato. Al giorno d'oggi, vedendoli così innamorati come il primo giorno, sembra che niente possa scalfire il loro amore. Nicola Carraro, in un momento di pura emozione, ha dichiarato il motivo per cui ha deciso di sposare Mara, non solo per amore, ma come un simbolo di rispetto e riscatto. Il messaggio da questa storia? L'amore, quando è vero, supera ogni ostacolo. E Mara Veniera e Nicola Carraro ne sono la prova vivente. Resta sintonizzato per ulteriori dettagli su questo matrimonio indistruttibile e molto altro ancora.